ciao raga oggi ci troviamo in un bando dove ci ha portato davide e lo andiamo a cercare ho visto un dindarolo forse è lui posso inserire la monetina andrea ero partito con l'esplorazione però ci siamo fermati subito questo panorama raga questo no ma l'hanno migliorato non puoi capire quanto è figo da paura guarda che panorama ci vediamo dopo no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.